Ciao, sono Francesca Vaghi, Talent Acquisition Specialist di KPNG Studio Associato. In questo momento siamo alla ricerca di giovani laureati in economia o giurisprudenza da inserire all'interno del nostro team di M&A Tax. Insieme ai nostri professionisti ti occuperai della gestione fiscale e di operazioni straordinarie, valutandone rischi e complicazioni. Se hai maturato un interesse per la fiscalità internazionale e desideri mettere alla prova quotidianamente il tuo inglese, manda il tuo CV all'indirizzo fvaghi-kpng.it Ti aspettiamo!